Sono Federico Mai. Padre Cacciapuoti mi aspetta. L'unica speranza è che Benedetta confessi il patto con Satana. Ma Benedetta non confessa. Domani c'è la prova del fuoco. Com'è bello. Dovrete solo dire. In nomine Patris et Fili et Spiritus Santi. Amen. Federico Mai. Da otto anni mio marito è scomparso. Alcuni dicono di averlo visto sempre di notte. Perciò lo chiamano il vampiro. Tu che frequenti il mondo dei vivi, dammi un polso della situazione. Vogliono tutti la fattura. Anche i contadini vogliono la fattura. Fermare il tempo è impossibile. Un vampiro. È un vivo o un morto? Allora lo abbraccerete. Cosa ti importa se lo abbracciamo? Ho paura della sua vendetta. Avvicinati Benedetta. Nessuno non è auto. Nessuno non è morto. Ch\'92'e un morto? E' un morto?